Musica Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con la Bianca e Rosso Tibi Sport. L'inquietudine dell'ambiente bianco-rosso in primo piano, senza dimenticare che domenica si va a giocare all'ecco, campo in erba sintetica, tant'è che il Bari si allena a Modugno su un campo con la stessa superficie per prendere le misure e i rimbalzi del pallone che sono inevitabilmente diversi. Però l'inquietudine dell'ambiente è un po' il tema di oggi e lo sviluppiamo come sempre il martedì con il nostro Francesco Monteleone che di tifoseria se ne intende. Mi chiami sempre nei momenti gravi, più preoccupanti, ma io mi sono portato una spalla diciamo... Un tifoso doc, Giuseppe Concordia, Concordia è un marchio, mi viene in mente subito la focaccia insomma, quando pensiamo a lui. Giuseppe, grandissimo tifoso del Bari, benvenuto al Tibi Sport. Peraltro state portando avanti un progetto molto interessante, no? Vero, vero. Cioè parlare di focaccia all'interno delle scuole, hai capito bene? Sì. Parlare di focaccia è altro, focaccia è molto importante perché è un marchio nostro della città, un marchio di Bari e ci teniamo tantissimo a questo, soprattutto anche ora che ha una certa importanza proprio dal punto di vista anche turistico, però dal punto di vista culinario è tutto ciò che ne comporta a livello di uso di cereali e materiali. Te puoi parlare di... Tu la sai la differenza fra farina e segale? Semola. Semola, semola. Semola è quella gialla, la farina è quella bianca. Sì, quella gialla. Quella gialla, sì, il colore è la differenza. Te la direi, vieni a sentire le lezioni che tu hai. Va bene, va bene. E capirai. Senti, Francesco, è apparso uno striscione ieri esposto ai tifosi della Curva Nord al San Nicola, porta rispetto per chi paga il biglietto. Questa è la conseguenza del bisticcio in tribuna tra il presidente De Laurentiis e un tifoso. In realtà, come abbiamo spiegato ieri, il bisticcio c'è stato, la reazione anche innervosita del presidente pure, però è stata data un'interpretazione anche errata all'abbiale del presidente. Insomma, in un primo momento era emerso che il presidente avrebbe detto se tu stai venendo qui allo stadio, insomma, se siamo qui è per merito nostro o qualcosa del genere, però non è questa la frase, insomma. Però al di là di questo non è questa la frase. Però tu conosci benissimo le dinamiche del tifo, sai come ragionano i tifosi del Bari, soprattutto in un momento del genere. Beh, il resto dillo tu. Allora, guarda Enzo, in questi casi, quando ci sono crisi di questo tipo, la prima cosa che fa il tifoso comune, il più pop, è usare ingiuri e tormenti verso i dirigenti per due ragioni fondamentalmente. Per conoscere la mansuetudine del dirigente, no? E in genere per sperimentare anche la pazienza. Diciamo, è un buon fine alla fine, no? Provochi il presidente perché vuoi capire fino a che punto lui stesso, diciamo, è fragile. E quindi anche in questo caso è accaduta questa cosa. Conoscere la mansuetudine dell'Aurentis, che conosciamo poco perché poco si fa trattare, e sperimentare il suo livello di pazienza che, come dire, ha tradito un po' dicendo se state qui è per me, cosa peraltro vera. Non è che ha detto una mezzogna. Però non è, è stato un l'abbiamo interpretato, in realtà non è quella la parla francese. Ma anche se fosse, dici tu. Anche se fosse, è vero, è vero. Non è che ha detto una mezzogna. Voglio dire, lo sappiamo tutti che è così. Questo comportamento però, Enzo, è fortemente autolesionistico. Ci porta a farci male con le nostre mani. Perché Kierkegaard diceva una cosa giustissima. Bisogna tener conto di ogni parola ingiusta che è stata detta. In questo periodo meno si parla e meglio è. Perché bisogna solo recuperare la situazione, che non è grave. Da questo punto di vista, ma dopo senti l'anima pop, perché lui è uno che veramente va allo stadio, li conosce tutti. Io direi un'ultima cosa. L'unico errore che commette De Laurentiis è, lo leggevo l'altro giorno, a proposito di Giulio Cesare, che è sempre una delle persone che più studio per motivi miei. Cesare, quando c'erano ribellioni nelle tribù che lui assoggettava, o anche nelle sue stesse regioni, faceva una cosa elementare, Enzo, che io suggerisco a De Laurentiis. Cesare faceva un'assemblea, li chiamava tutti, o i capi delle tribù, i suoi legionari, e si faceva dire quel che pensavano direttamente. Perché così diceva, lo dice nel De Bello Galico, così capivo chi era in mio favore e chi era contro. Facesse un'assemblea De Laurentiis e guardasse negli occhi tutti quelli. Perché lì lo striscione è moderato. Io ho sentito ingiurie veramente pesanti nei suoi confronti. E che senso ha? Vattene da Bari, sparì là, cioè illazioni che non hanno senso. Cosa direbbe invece il tifoso Giuseppe Concordia De Laurentiis se potesse incontrarlo un attimo per strada? Sicuramente manca un po' di comunicazione, da un po' di tempo. E questa è la cosa che il tifoso si sente un po' secondo la squadra, in un certo senso. È brutto dirlo. Perché deve essere un po' più partecipe, anche dal punto di vista dirigenziale, un po' di prospettive ci vogliono, un po' di programmazione, dare un po' di importanza anche a chi si prende freddo, a chi fa tanti chilometri in pullman, in macchine, in auto, a chi spende soldi, a chi lascia la famiglia, a chi ha una fede. La fede calcistica è l'unica che non si tradisce in assoluto. Può tradire tutto, la fede religiosa, poi c'è il carico religioso, la propria fede matrimoniale, ma la fede calcistica rimane eterna nella vita, svolpita, tatuata nel cuore. E questa è una cosa che purtroppo, secondo me, un po' manca. Un po' l'anno scorso ci è andata molto bene. Secondo me questo è stato il problema più serio. L'anno scorso ci è andata troppo bene. Quest'anno la squadra è stata un po' puntellata, a destra e a sinistra, un po'. Però, ecco, l'anno scorso è andata troppo bene. Troppo bene, di lusso. Sì, troppo bene. Oltre l'immaginazione. Oltre ogni aspettativa. Del tema dell'inquitudine della piazza, abbiamo parlato ieri con il sindaco Antonio De Caro. De Caro ieri era qui a Telebari per il solito spazio con Alessandra Bucci, ma ci ha chiesto di intervenire e lo abbiamo ospitato nell'ultima parte, anche per chiedere, insomma, se lui magari sa qualcosa di più su quelli che possono essere i programmi e gli orientamenti della famiglia De Laurentiis. Sentiamo cosa è emerso. Sono abituato a prendermi le responsabilità di quello che faccio e sono ancora convinto che la scelta che abbiamo fatto all'epoca in quel momento era la scelta giusta. Potevo, come hanno fatto altri sindaci nel nostro paese, individuare una società e assegnare il titolo sportivo, perché mio malgrado in quei giorni scopro che i sindaci sono titolari del titolo sportivo nel caso di fallimento. Quel giorno in Curva Sud abbiamo fatto un'assemblea e mi è stato chiesto dai tifosi trasparenza, non prestanome e scegliere la società utilizzando dei criteri. Presidente, credo che rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso, il lutto è stato così forte, la ferita così dolorosa, che la cura rispetto a quella ferita deve essere importante. Quindi l'appello che possiamo fare al Presidente, da tifoso però lo posso fare, non da sindaco, lo posso interpretare da sindaco, la volontà dei tifosi e della nostra comunità, è quella nel mercato di gennaio di alzare il livello tecnico della squadra, acquistando magari giocatori rispetto a dei giocatori che si sono infortunati e che non ritroveremo nei prossimi mesi. Non credo abbiano interesse in Serie B. Quel giorno mi sono stato il giorno che abbiamo perso quella maledetta partita. Quella storia dove c'era Rivera anche di mezzo? No, non c'entra niente a Rivera. Mi avevano presentato delle persone che non so cosa fanno nella vita, che erano in maniera riservata, erano gli acquirenti del bar in Serie A, quindi avevano individuato gli acquirenti, ma erano interessati in Serie A. Rivera, io ci ho creduto, voi l'avete scoperto dopo tanto tempo, io ci ho lavorato quattro mesi, gli incontri, la società, le telefonate, ho parlato con di me la tua attività prevalente. Ho parlato all'allenatore, a 80 anni mi sembrava. Questa è quella cosa detta da De Caro che ribadisce che quando il Bari era veramente un filo dalla Serie A, idealmente si avevano presentato quelli che sarebbero stati i loro successori, quindi c'era già un'idea di quella che sarebbe stata la successione al timone del Bari. Ma al Bari si non va mai bene nessuno dal punto di vista dirigenziale oppure ci sarebbe un prototipo di Presidente ideale? Ma non c'è mai stato un Presidente ideale, anzi quando io ho iniziato qui... Moratti forse. Magari sarebbe stato forse un appassionato, ma quando abbiamo iniziato qui a Telebari, io ricordo che per due o tre stagioni gridavano dalla curva, ma quale Presidente, ma quale costruttore sei solo un muratore, che peggio non potevano offenderlo. Adesso portano rispetto ai Matarrese, al Presidente, a Vincenzo, ma per anni lo hanno insultato, perché non colmava le aspettative della squadra. De Palo ebbe la squadra gratuitamente, erano tempi eroici, non c'entra niente proprio. Gli altri due sono stati pregiudicati, voglio dire, giudicati dalla legge, quindi in realtà che Presidente abbiamo? Questo forse è l'unico che si assomiglia un po' più ad un Presidente classico, anche se poi è figlio d'Arter, che non è lui il vero Presidente, il padre lo sta addestrando a farlo. In tutto questo, ieri ho trovato una persona a quale voglio molto bene, che è uno... Ocuno dei due ha avuto problemi con la legge, l'altro no, comunque. Scusami? Uno dei due gestori ha avuto problemi con la legge, l'altro no, ha avuto problemi dal punto di vista della gestione societaria. Dici paparese? Non ha avuto problemi, infatti, ha avuto questioni legate, però non ha avuto, diciamo, grandi... Reatti penali, no, volevo dire, sono finiti in tribunale, i libri, no, no, assolutamente. Ci siamo. Volevo dire questo, non mi permetterei mai di giudicare, diciamo, da questo punto di vista, però sono state due disgrazie, sono state due disavventure. Ti dicevo, ieri ho trovato una delle persone come lui che va da sempre allo stadio, mi ha detto una cosa giustissima, peraltro questo vecchio tifoso è la persona che nella macchina sua è morto l'ultimo, sai, l'avvocato di 40 anni, con figlio, mi ha raccontato una cosa terribile, la morte allo stadio di un padre davanti al figlio tifoso è stata una cosa che mi ha turbato. E mi dicevo a questo, gli ho chiesto, che dici tu di sta squadra, io sono un dilettante. Lui mi dice, guarda Francesco, questi sono più forti di quelli dell'anno scorso, singolarmente, che dira compreso, ed è uno che va allo stadio e che fa le transfert, quindi non... e dica, beh, allora sono più forti e lui mi dice, questa in realtà non è ancora una squadra. Io ho meditato tutto il pomeriggio prima di ieri, stamattina prima di venire da te, perché che significa questa non è una squadra? Una risposta me la so data in realtà, ma perché non è una squadra ancora? Che cos'è che gli manca? Non è che non si può fare una squadra, perché è una squadra creata, chiaramente un allenatore, anche Migliani stesso, li impongono qualche giocatore, però un po' di voci in capitolo, cioè Marino è anche un ottimo allenatore, non è l'ultimo arrivato, solo che non è che non si può fare una squadra, ripeto, il problema è, secondo me, poi noi abbiamo, non so, individualmente sono magari anche un po' più forti di qualcuno dell'anno scopo, qualcuno tecnicamente... Diciamo che a mio avviso, questo bisogna un po' riflettere, quando si dice più forti sulla carta, hanno più carriera. Anche tecnicamente, quando li vai a vedere giocare al calcio. Il calcio è potenza fisica, il calcio è velocità, il calcio è corsa, da questo punto di vista. Noi abbiamo, io dico sempre, noi abbiamo il centrocampo impostato del Benevento dell'anno scorso, che quest'anno sta arrancando in Serie C. Dove abbiamo acquistato, abbiamo avuto in prestito dei giocatori da una squadra di Serie C. Sai, un conto che li hai da una squadra di Serie A, io non voglio fare il contestatore, allora dici, vabbè, adesso lo sto rivalutando dei giocatori, magari poi se li prendono, ma quando tu hai in prestito dei giocatori della squadra di Serie C, l'anno scorso eri processa a settembre praticamente il Benevento, con questo centrocampo, sono bravi, dubbiamente, ma qualcosina, insomma, bisogna rivedere, sicuramente. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme, anche con le vostre telefonate allo 080 501 9998, tra poco. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione e la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. ITS meccatronicaPuglia.it ITS Cuccovillo, il futuro ora. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Yatija 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Il Natale City Moda diventa magico! Fino al 10 dicembre, con la City Christmas, ricevi una gift card da 30 euro ogni 150 euro di spesa. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia, oppure su Facebook. Questa è una storia che conosci già. È una storia di valori. Una storia di qualità. Una storia di vicinanza. Una storia di convenienza. Una storia di amicizia. Una storia che diventa ogni giorno più forte che mai. Prodotti a marchio Sigma. Nella tua storia da sempre. Nella tua spesa da sempre. Scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardi.it Segui supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Con il freddo arriva da Sport Club un'offerta imperdibile. Le nuove felpe Nike a soli 49 euro. Inoltre, non perderti le nuove collezioni Jordan, Puma, New Balance, Adidas e NBA. Ti aspettiamo da Sport Club. Corso Cavour 116 a Bari. Farmacia a cavallo. Sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Sposè e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Neymed, Enerzona, Enervit e Gymline. Oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come i consegni a domicilio, tampone rapido, ECG, oltre cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Scegli farmacia a cavallo. La tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio, 12esimo 48B a Bari. Eccoci insieme in seconda parte del Bianca e Rosso TB Sport. Apriamo anche le telefonate allo 080 501 9998. Ma prima di far questo, la nostra intervista flash, abbiamo ascoltato Ben Ali che è tornato a giocare nel match contro il Venezia. Mi dispiace tanto per il risultato e soprattutto in casa ci tenevamo a far bene e sicuramente reagire dopo il pareggio fatto a Salò. Purtroppo non siamo riusciti, anche se siamo forse stati in partite che non è un novantesimo. Però a livello personale sono felici di essere tornato in campo dopo tanto tempo. Poi il ruolo deciderà il mister e io ho sempre detto che sono a disposizione, non ci sono problemi. Ecco, come ti spieghi questa sconfitta e questa prestazione contro il Venezia? Perché poi alla fine il risultato è diventato pesante. No, sicuramente. È un risultato che negli ultimi minuti, sicuramente ci dispiace per com'andata. Soprattutto negli ultimi minuti che abbiamo preso due gol forse sembra un po' più grave di quella che è stata. Perché se analizzi durante i novanti minuti sicuramente Venezia è una squadra forte, è una squadra che lotterà tra i primi posti. Però le occasioni per pareggia la partita le abbiamo anche avute. Quindi forse gli ultimi minuti sono sicuramente da dimenticare, da lavorarci. Perché una squadra esperta come la nostra ci dispiace a perdere 3-0 in casa. Inevitabilmente Amade sta tirando un'aria pesante poi intorno alla squadra. Che ne pensi di questa situazione? Ma qua dobbiamo sicuramente reagire perché dopo un 3-0 in casa è normale che la città, la squadra, i tifosi, la società si aspetta un cambio di risultato. Sicuramente noi adesso andremo a giocare su un campo difficile contro una squadra tosta e non possiamo assolutamente sottovalutare. Non possiamo sottovalutare, d'accordo con l'analisi di Benari, non l'avessimo preso con negli ultimi minuti, sarebbe stato diverso il giudizio o no? No, secondo me no. Purtroppo no. Bisogna essere realisti. Il Venezia è stato nettamente superiore sotto tutti i punti di vista, tatticamente, tecnicamente. È stata una squadra che ci ha dato gran piacere nel vedere giocare. Perché abbiamo visto, onestamente, abbiamo visto un bel calcio. Il Bari ha giocato, però ha cercato episodi, sì, chiaramente. Ha tentato in tutte le maniere di aruginare, però loro avevano una facilità di palleggio, venivano in porta quando... Sembrava che venissero in porta quando avevano voglia, quando volevano. Quindi, bene o male, dire vado fuori in trasferta all'Ecco e temere la squadra avversaria, sì, è giusto, però fino a un certo punto. Siamo il Bari. Telefonata, pronto. Buonasera Enzo, buonasera agli ospiti a Monteleone, che seguo sempre per la sua saggezza. Ora, io sono messi che non riesco a prendere la linea. Voglio dire una cosa, però fatemi parlare un minuto. Prego, prego. Concedete. Allora, io sento parlare contro i tifosi del Bari, eccetera. Secondo me, analizziamo quello che è successo in maniera velocissima. L'anno scorso, a 120 secondi dalla fine, stavamo per andare in Serie A. Dopo 15 anni, 14 anni, con l'ultimo volta è stato con Conte. Poi abbiamo fatto due anni con Ventura. Ci manca la Serie A, abbiamo bisogno di Serie A. Siamo arrivati ad assiolarla l'anno scorso. Cosa doveva fare questa società? Tenere la squadra dell'anno scorso, puntellarla. Non voglio entrare ora perché... Quello che ha fatto in Venezia, quello che ha fatto in Pagli. Quello che ha fatto in Pagli. Però, scusami Enzo, non puoi tu andare a portare i giocatori. Io sono andato anche dove hanno fatto il ritiro, in Abruzzo, va bene? Ho parlato anche con Mignani, che è un signore, e chiudo e apro parentesi, che non c'entra niente, è un capio espiatorio. Detto questo, i giocatori non possono arrivare a ritiro, non c'è stato il ritiro. Allora, che cosa voglio dire? Cosa ci possiamo aspettare da giocatori presi in prestito? Quindi, dove c'è la programmazione che dice Polito? Non c'è programmazione, Enzo. Se questi giocatori me li hai presi in prestito e dici che stai programmando per la... Tu vieni a provocare la gente. È stato piuttosto sticcioso, anche quando si è fatto riprendere sul balcone di casa sua... Però non dimenticare che Polito ha spiegato la dinamica. Polito ha detto che questi giocatori sono in prestito, ma abbiamo il diritto di riscatto. Nel senso che se questi giocatori funzionano, non li prendiamo. Sì, perfetto, Enzo, perfetto. Però tu devi dire, nell'intervista che hai fatto, devi dare delle speranze, devi far capire che quest'anno puoi lottare anche per le prime posizioni. Cosa voglio dire? Quello che ha detto Monteleone. Cosa manca ora per zittire tutti? Perché sono piccole frange quelle che stanno dando patì. È il signor dottor De Laurentiis che deve venire in televisione e fare una conferenza stampa. Non essere un oggetto misterioso. Noi abbiamo diritto di sapere come stanno le cose. Grazie, grazie. Spero che abbia detto tutto. E lui ha diritto... Tu parla di un'assemblea. C'è la televisione. Lui ha ragione a dire che vuole sentire il Presidente. Il Presidente deve ascoltare i tifosi. L'assemblea a questo serve. Come dire, a confrontarsi. D'altronde, guarda, nel calcio due cose uccidono. A me le parole farebbero molto piacere. Però devo dire la verità un po' perché... Non dico in riferimento a questa società, ma in generale. Io ne ho sentite tante. Ormai io guardo i fatti, non guardo neanche più le parole. Devo essere sincero. A me basta... Io guardo i fatti ormai. Cioè io sulle parole dette nel calcio, anche i calciatori a qualsiasi livello, gli allenatori, sono misteranti, dicono le 3-4 cose che devono dire. Cioè è difficile che qualcuno ti dica esattamente... La verità. È così, capito? Certo, certo. È così. Allora, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Ripeto, 080 501, l'oracolo. No, aspetta, l'oracolo mi ha detto che nel 2030 andremo in seriato. Ah sì? Quindi è meglio se non lo vada a disturbare. No, ti volevo dire una cosa. Da un po' di tempo sto scrivendo per la Gazzetta una rubrica sui panifici e sulla focaccia. Non ne parliamo, non ne parliamo. Che è iconica. Non esiste un panettiere tanto colto. Lui fa il panettiere, ma così colto non esiste. Lui è veramente... Ed è un maestro vero, è un maestro vero. Grazie Francesco. Dì a Tamboro quella differenza. Un po' di focaccia gratis. C'è la telefonata prima, prendiamola. Pronto? Sì, ciao Enzo, sono Nico. Nico, ciao. Un saluto agli ospiti. Grazie. Ciao. Enzo, come... Non so se tu ti ricorderai, io... Lasciamo stare il discorso societario perché ormai abbiamo capito perfettamente i non programmi della società. Ma cercare di difendere l'operato di Polito è quanto meno di giustificarlo. È vero che non ha avuto soldi per poter fare una campagna acquista, come si vede. Questo è poco ma sicuro. Ma cerchiamo di essere obiettivi una volta tanto, di dire che lo suo signore ha completamente sbagliato quel poco che ha preso. Quindi ci siamo fatti soffiare all'ultimo momento un attaccante forte che comunque faceva il caso nostro come numero. Io ripeto, parlo come numero, non come giocatore. Quindi cerchiamo di essere obiettivi anche voi stessi. Cioè, Polito ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Ok, è venuto Ramo, però Ramo per sua sfortuna non sta rendendo. Diavoli si è fatto male, è stato un mese e mezzo fuori. Però adesso diciamo di questo mercato, diciamo, quello che sta funzionando è Sibilli. Per il resto è Nasti comunque un buon attaccante. Enzo, finisco, scusami. Ma non si può dire che il mercato va bene perché Sibilli? No, 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 non stiamo dicendo. Ma nessuno ha detto che il mercato va bene. Io ho detto che il mercato va bene. Bisogna, io mi aspetto a gennaio, Enzo, il mio desiderio, oltre, ripeto, lasciamo stare la società che ormai non c'è più niente da sognare, da sperare. Io desidero proprio che il signor Polito vada via. Grazie, ciao. Grazie, insomma il mondo è cambiato nei giorni di pochi mesi. Polito era considerato un idolo a Bari. Adesso invece ce l'hanno, è tremendo il calcio. Il calcio ti uccide in due modi da sempre. Questa è la, diciamo, la sublimità del calcio. Ti uccide perché ti delude, ma ti uccide anche con la speranza. Nel calcio la speranza nella quale tu ricadi sempre, come sta capitando adesso a noi, ti uccide. Sono due veleni straordinari. Delusione e speranza. Poi c'è un'alchimia particolare che non sono ancora riuscito a capire nel calcio. Riferimenti, Palermo, quest'anno, ha speso tantissimo. Non mi fa impazzire, assolutamente. Riferimenti biblici, se ci ricordiamo Boban, Carboni, i tempi che furono, un po' antichi. Io vidi Lessi, ero in montagna con mio padre, il piccolino, avevo 16 anni, l'ultima vacanza che fece con i miei. Lessi sulla Gazzetta dello Sport, l'articolo, un'intervista a Zello Vicini, dove il Bari è da scudetto. Platt, l'anno di Platt, Boban, Jarni, Carboni. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Quindi... Come dice il professor Antonucci, la miniera dell'imprevedibilità. Assolutamente, cioè è ancora quasi indecifrabile. Bisogna saper mettere insieme i giocatori, mi hai visto, è chiaramente giusto. Uno bravo è Angelozzi, ad esempio, sta dimostrando bravo anche a Frosinone, con la squadra forse costruita con meno soldi in assoluto e con prestiti di talentuosi. Angelozzi, Frosinone, Frosinone è una bella squadra, io vedo le pari di Frosinone e gioca benissimo al calcio. Perfetto, Angelozzi è grande. Con i ragazzi del settore giovanile da Juventus, quelli che giocavano l'Under-23, che poi si erano a faccia del Sole e altri, a faccia del prima squadra, là si punta su, almeno l'idea c'è, si punta sul talento, sul talento dei giovani. Cioè, questa è la linea che devi fare. Lo scorso anno il Bari puntava sulla fisicità di alcuni calciatori. Difesa, ma poi contropiede a mille. Quest'anno, a mio avviso, non lo so, è una squadra che non vedo ancora. Ecco, quando si parla di non... Non mi sembra che ci sia ancora un'idea di squadra. Non mi sembra che ci sia un'idea. Frosinone, dicevamo, giovani talentuosi. Di Francesco, allenatore che aveva fallito le ultime dieci stagioni, che però sa far giocare la squadra, motivato a far bene, fa giocare di Frosinone molto bene. C'è una telefonata, prendiamola, pronto? Sì, Enzo, ciao, sono Alfredo Dabbari. Ciao Alfredo, ciao. Ho sentito il redetto prima delle chiacchiere, non contano, sono d'accordo con te. Anche perché adesso ci vogliono solo i fatti. Speriamo a gennaio di vedere un mercato bello corposo, che cambi davvero la situazione, almeno se il campionato si può ancora recuperare. Sì, grazie. Grazie, grazie. E queste sono le... Ma l'hai detto tu prima, c'è un comportamento giusto. Un filosofo del Seicento, Bacone, avrebbe detto Tentate ogni cosa, ma conservate ciò che è buono. L'anno scorso abbiamo tentato parecchio, ma non abbiamo conservato ciò che è buono. E' sempre una, la tiri fuori sempre dal cilindro, insomma. E' perché tu mi ispiri qua. Stiamo invecchiando insieme. Ripeti, scusa, ripeti, ripeti. Mi sento a casa con quei due disegni. Ripeti, ripeti. Ciò che è buono. E' uno dei motti di Bacone, un grande filosofo del Seicento. L'anno scorso trovi due persone, che fai? Che poi che fine hanno fatto? Uno non gioca più. Grande goleador. Era un buon giocatore. C'è Dio, qualino, diciamolo alla Barresa. Che avrebbe fatto bene a rimanere qui. Anche se poi lui è nato nello stesso paese di Palanca. Lo sai dove sta la Madonna? Marchigiano. A Loreto. Loretto, sì. E' un loretano lui, se si può dire. L'altro, disgraziatamente, perché la sorte ti punisce. Quando sei troppo ambizioso. Si è fatto male, il portiere ti dice. Si è fatto male. E quindi avrebbero fatto bene a stare qui. Avevamo trovato due cose buone. Come dicevi tu, su quei due... Però, a mio avviso, una società deve anche convincere due giocatori ambiziose a dire le ambizioni... Le devi... Bravo! Altro elemento straordinario. In questo, a mio avviso, una società forte come il Bari. Perché la società è forte, avrebbe, a mio avviso, avuto i mezzi per convincere Caprile che Dira a dire... Siete ambiziosi? Sì. Siamo ambiziosi tutti insieme. Andiamo insieme in seriale. C'è varie ambizioni anche dal punto di vista economico. A meno che qualcuno non mi venga a dire che che Dira si era messo di traverso, che Caprile aveva detto... Poi, alla fine, per convincere i giocatori, cosa devi fare? I soldi ci voglio. Pubblicità. Poi diremo insieme. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Il Natale City Moda diventa magico! Fino al 10 dicembre, con la City Christmas, ricevi una gift card da 30 euro ogni 150 euro di spesa. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. CODES, società di ristrutturazioni ed ili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari. Dalla progettazione alla manifattura. CODES SRL è a Modugno in via Brescia 4D. Mail codessrl.info.gmail.com Whatsapp 375-817-0098 Questa è una storia che conosci già. È una storia di valori. Una storia di qualità. Una storia di vicinanza. Una storia di convenienza. Una storia di amicizia. Una storia che diventa ogni giorno più forte che mai. Prodotti a marchio Sigma. Nella tua storia da sempre. Nella tua spesa da sempre. Scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardi.it Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. WMB Viaggi. Pacchetti vacanze a quote fisse e vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari. In via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea Bari 69. In via Cirillo 2, barra via Valenzano. WMB Viaggi.it Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in viale Papa Pio 12, 48B a Bari. Rieccoci insieme con i Biancherosso TV Sport. Beh, che i Dallarenti sappiano fare impresa, calcio, è fuori discussione. Oggi è stato pubblicato un dato relativo agli utili, relativo al bilancio chiuso dal Napoli al 30 giugno 2023. L'utile è di 79,7 milioni di euro. E supera quello del 2017, che era un altro record, di 66 milioni e rotti. Si fa riferimento alle perdite che erano state accumulate durante il periodo del Covid. 130 milioni di passivo sono stati recuperati in buona parte lo scorso anno. Insomma, dal punto di vista dei conti. Quindi, diciamo, credo che sia il top in assoluto. Poi è chiaro che bisogna sempre conciliare i conti con il risultato sportivo. E' la stessa gestione. No, non è la stessa cosa. No. Il padre sta... Mi piace perché ha buttato il figlio nella mischia come quando butti un figlio per fargli imparare a nuotare. Ma non mi sembra che lo assista tanto. Perché in una situazione di attacchi così, di ingiurie pubbliche, un padre come lui, che assiste il figlio che sta qui nello studio, l'avrebbe protetto. Invece non lo sta proteggendo. Lo ha esposto alla piazza e... Ma sono un po' abituati. L'ho scoperto. Quando fecero quella campagna che fecero scalpore, mica De Laurenti, Napoli, insomma, anche lì. Mica scherzano. Però chiaramente poi l'è andata in una maniera fantastica. E' fortuna. Tenta la sorte e gli va bene. Sì, ci muore anche una buona dose. Ma io sei rimasto ancora ad aspettare la differenza fra farina e semola. Si può conoscere questa differenza fra farina e semola? Digliela in un secondo. È una cosa stupida che però alla fine poi... La semola è una macinazione del grano duro. Quindi praticamente il grano duro è il nostro classico grano perché nel sud per questioni climatiche c'è il duro. Quindi dal duro viene fuori la semola. Se la rimaciniamo di nuovo facciamo la semola rimacinata e facciamo il pane. Se invece la maciniamo una sola volta facciamo la pasta. La pasta nostra di semola è il grano tenero e la farina. La farina viene dal grano tenero. E diciamo che è un cereale che cresce all'attitudine di un po' differenti. Anche da noi però ha un clima un po' più in effetti. La focaccia è un prodotto intramontabile che non tramonterà mai. Ne abbiamo avuto anche la storia clamorosa del McDonald's di fronte al panificio di Altamura. Ha chiuso il McDonald's, ricordo bene. Sì, sì, assolutamente. Quelli erano, poi io riconosco anche abbastanza bene. Quindi è stata una cosa eccezionale. Chiaramente è la cultura che difende. La nostra cultura la focaccia è quando la porti a casa. La sorgele la vende in tutto il mondo praticamente. Sì, diciamo che mi hanno trovato la maniera di far sentire il profumo di Bari, dico io, in ogni casa nel mondo. E senza usare la chimica. Perché il freddo è il migliore conservante che si possa usare in assoluto. Non usi chimica. Oltretutto migliori molto il prodotto che mangi. Perché la punta è glicemico. Giuseppe, ma perché non aprite un panificio vicino allo stadio? Io credo che se si mende la focaccia... Una volta si mangiavano i panini con le braciole, ma li facevi a casa. Io se uno apre un panificio vicino allo stadio, mezz'ora prima, focaccia e birra... Franceschino, sai che siamo adesso nella fascia dove ti faccio vedere i filmati e tu mi riconosciai? Sì, vediamo. Anche con Giuseppe. Allora, tu sei un tifoso del Brasile, no? Sì. Io sono d'accordo con te che i brasiliani hanno qualcosa di diverso. Avevano. Hanno per me ancora qualcosa di diverso. Il problema è che sono fin troppo giocherelloni. Queste sono le immagini dallo spogliatoio del Brasile. Vedi che cosa fanno nello spogliatoio? Secondo te... Ballano, ebbè, certo. Bellissimo. Fantastico. Ma si può mantenere la concentrazione se balli così nello spogliatoio? Ma stai scherzando? Stai scherzando? Il Brasile del 70 si allenavano con la musica in campo. Lo diceva sempre Socrates, Falcao, mettevano la musica. La mente ha bisogno di distrarsi. La mente distratta. Questo è veramente uno dei cardini della psicologia, Enzo. La mente più è distratta, più sopporta la fatica. Quindi se tu li fai ballare mentre gli fai fare i gradoni di Zeman, loro li affrontano più facilmente. La mente distratta sopporta una fatica superiore. Ma questo anche nel lavoro. Probabilmente se tu invece di tormentarli, li dai di creazione, lavorano meglio. Quindi quello è un espediente per tenere lo spogliatoio vivo e come dice lui, si sono abbracciati i giocatori. Perché la gioia è un elemento coesivo, straordinario. È importante per il cervello il piacere e la gioia. È la cosa più... ti fa venire tutto meglio. Ti porta bene. Eh, appunto. La gioia, il piacere ti porta bene. Ora non so la concentrazione quando ballano così, però evidentemente ti porta proprio... ti fa funzionare meglio. Eh, certo. Ora invece l'emozione dei genitori di Camarda. Camarda è l'attaccante del Milan che ha debuttato l'altra sera a poco più di 15 anni. Queste sono le immagini. Peraltro Camarda è un cognome salentino. Non so se ci siano origini salentini in questi genitori dell'attaccante del Milan. 15 anni e qualche mese. 15 anni. Il giovane debuttante. Beato Lui. La mamma che piange. Questa è l'immagine dell'Italia bella. Vedi? La mamma che piange perché il figlio gioca è l'immagine dell'Italia bella. Avrei voluto vedere un'altra mamma. La mamma della ragazza che invece è stata uccisa. Sorridere. Che purtroppo... C'era più anche lei. Ha perso la madre se non sbaglio. La ragazza. Addirittura. Ha perso la madre. E quindi la raggiunta in cielo praticamente. Vabbè. Un'immagine molto bella. 15 anni e qualche mese. Perché noi siamo venuti dell'idea che insomma... Ma noi sono ancora giovani. Ci meravigliamo se uno debutta a 20 anni, 21 anni e giovani. Tu sei vecchio, Rabanne. Pure lui. Non è che... E' elettato i miei figli. E' elettato i miei figli. C'è 20 figli che fanno l'università tutte e due. Quindi state diventando calvi pure. Ma che ne pensi che devi già fare? Io mi sto avvicinando. 15 anni... Ma adesso a 15 anni Enzi. Io ho visto bambini che a tre anni fanno ragionamenti all'Aristotele. Adesso sono molto più intelligenti di noi. E più andremo avanti e più saranno educati. Adesso nascono prima, si sviluppano... No, nascono prima. Sempre a nove mesi si nasce. No, hanno un'educazione straordinaria e multimediale per cui ragionano. Io ho sentito una bambina di otto anni che faceva... Che parlava veramente come i filosofi. Che chiedeva alla mamma anche cose scabrose. E' un po' triste però. E' un po' triste. E va bene, il progresso è così, Giuseppe. Noi siamo meglio del... Una volta tanto Cristiano Ronaldo invece ha rinunciato un gol. Sai che lui avido, vuole segnare sempre. E' tutto questo nel campionato arabo. Vediamo le immagini dell'Al-Nasdre. Vediamo che lui fa gol. E' un rigore, tu sei, un rigore. E' un rigore, un rigore. Però dice... No, no, no. Non mi hanno fatto farlo. Tranquillo, non dare il calcio di rigore. Quindi uno strappa la regola perché lui, come sappiamo... Vabbè, l'ha fatto là. Eh sì. L'ha fatto in Coppa dei Campioni. Sto facendo quello del gioco. L'ha fatto là. L'ha fatto là. L'ha fatto fare tutto poi. Avrebbe fatto questo. E poi, insomma, il segno di riconoscenza del difensore, insomma, il quale Ronaldo ha risparmiato un calcio di rigore. Siamo in dirittura d'arrivo, ma attenzione perché nella quarta parte, lo speciale tennis e paddle, abbiamo un momento molto bello perché ospite dei nostri studi con Giuseppe Bellino c'è Michelangelo Dell'Edera di Rutigliano che ha fatto parte dello staff dell'Italia che ha vinto la Coppa Davis. Il team manager di Rutigliano l'abbiamo intercettato. Oggi è venuto a parlarci di questa straordinaria esperienza. Ricordiamo invece i vostri appuntamenti a scuola, lezione di focaccia. Dopodomani all'Oshan verranno due classi importanti e poi il 5, martedì prossimo, per cui, come ti dicevo, sarò assente, verranno altre due o tre classi. Ma c'è anche pratica? Cioè fate vedere proprio come funziona? La pratica diventa un po' difficile per tanti motivi, anche perché la pratica ti deve organizzare in maniera un po' differente. perché non tutti possono seguire, vedere, però già incominciare a parlare è già tanto. Cioè incominciare a parlare, già incominciare un po'. Poi è bello quando ti interfacci con i ragazzi. Perché è verità anche gli adulti, mangiamo ma non sappiamo quello che stiamo mangiando effettivamente. Noi lo dice sempre, siamo diseducati per l'alimentazione. Bisogna sapere cosa comprare, cioè bisogna capire che mangi bene sempre determinate volte, poi quando tu, però ogni tanto può anche sfuggire qualcosina di... è importante. Riprendiamo il discorso del piacere. No, è importante avere un po' di consapevolezza di quello che si fa. E poi la consapevolezza è fondamentale. Grazie a Giuseppe Concorta, grazie a Francesco Monteleone che mi abbandona per due settimane, giusto? Vabbè ci ritroviamo alla terza. Per forza maggiore. Va bene, va bene. Grazie a voi. Tra poco la linea Giuseppe Bellino con lo speciale Tennis e Paddle. Elettrica Armenise è impiantistica elettrica da quasi 20 anni e realizza impianti per case private, condomini e attività commerciali. Utilizziamo esclusivamente materiali certificati di alta qualità per garantire impianti sicuri e affidabili. Progetti eseguiti in conformità alle norme europee. Specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre, parabole Sky, impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli. Professionalità, prontezza e affidabilità al vostro servizio. Non sceglieteci a caso. Avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa. Elettrica Armenise, via Lucera 9, Modugno, Bari o armeniseimpianti.it Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Carservice Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Carservice Bari, nel cuore di Bari. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro. E quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basimiccolis.it Per cambiare tutto, non devi cambiare niente. Perché siamo noi ad essere cambiati per te. Con nuova ID3, grazie a noleggio IDAN, hai tutto incluso. Da 449 euro al mese, con anticipo zero. Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari. La rubrica TIE BREAK è offerta da Sport Club, Corso Cavour 116, a Bari. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova puntata di TIE BREAK, rubrica di TIE BREAK, dedicata al tennis e al padel. Oggi è una puntata speciale perché accanto a me c'è Michelangelo Dell'Edera, direttore dell'Istituto di Formazione dell'Istituto Lombardi, ma soprattutto team manager della Nazionale Italiana. Ben ritrovato. Ben trovato a te Giuseppe e a tutti gli amici di TIE BREAK. E allora direttore, ovviamente questa è una puntata speciale, una Coppa Davis riportata in Italia dopo 47 anni, un grande successo che dà lustro a tutta la nostra nazione. Anzitutto le chiedo un commento su questa incredibile vittoria. Noi non l'abbiamo percepita come un'importanza straordinaria da un punto di vista sociale, perché ci siamo concentrati a Malaga sul risultato sportivo, che vi garantisco è stato meraviglioso, anche perché atteso, come dicevi Giuseppe, da più di 47 anni. Da un punto di vista sociale ce ne stiamo rendendo conto in queste ore, perché a partire dall'arrivo a Roma, dal tassista, al barista qui a Bari, piuttosto che agli amici incontrati, ci siamo resi conto che l'Italia tennistica, la Puglia, Bari, sono stati veramente tutti attaccati alla TV per aspettare questo trofeo che ci mancava da una vita, possiamo dire. Per chi non lo sapesse, Michelangelo Dell'Edera era in panchina durante tutti i match disputati dagli azzurri, dava consigli a gente del calico di Yannick Sin, di Lorenzo Musetti o di Matteo Arnaldi. Ovviamente, direttore, le chiedo come l'ha vissuta e se c'è magari qualche aneddoto che vuole raccontarci, come ha vissuto il gruppo questo cammino verso la vittoria? Questo è il secondo anno da team manager della Nazionale, lo scorso anno semifinale, quest'anno vittoria, quindi straordinario. Ho visto crescere questi ragazzi, da Lorenzo Musetti piuttosto che Sonico, da Yannick Sinner, che ha vestito sempre la maglia azzurra da under 12, da under 14 e da under 16. E il capitano Filippo Volandri, stessa età di Flavia Pennetta piuttosto che Roberta Vinci, anche lui, ahimè, l'ho visto crescere. Quindi praticamente, di fatto, hanno voluto questo ruolo da team manager proprio perché sono diventato il collante un po' dell'attività di tutta la squadra, dall'area mentale a quella medico-sportiva, a quella strategica, tattico-tecnica con il capitano. Quindi un ruolo determinante all'interno del team. L'abbiamo vissuta benissimo di aneddoti, ce ne sono tantissimi. Uno subito su Novak Djokovic, incontrato prima del match con la Serbia, che l'ho ringraziato per le emozioni positive e negative che ci regala. E lui è scoppiato a ridere perché ha capito che quelle positive erano quelle sportive, quelle negative da tifoso italiano, anche perché Yannick da poche ore aveva perso in finale alle ATP Finals di Torino. Gli ho chiesto anche, secondo lui, che emozioni ci avrebbe regalato e lui ha detto vediamo. Beh, io sono contento che mi ha regalato emozioni negative, emozioni negative e positive per i nostri giocatori. Tant'è che negli spogliatoi ho detto a Yannick dopo il match con la Serbia che l'ITF, la federazione mondiale, ci aveva multato e gli aveva tolto 10 punti dalla patente e gli aveva tolto il diritto. E lui preoccupato, ma come maestro perché? Beh, perché praticamente ha tirato alcuni diritti che andavano oltre i 160-170 km orari. Quindi prestazioni straordinarie che ci hanno visto con le cinture allacciate, con i tre match ball contro Novak e poi naturalmente sempre in aereo per decollare verso un sogno atteso da 47 anni. Direttore, io colgo al volo il suo assist, mi soffermi sulla figura di Yannick Sin, un giocatore universale, l'abbiamo visto anche nell'ATP Finals, capace di battere i primi giocatori del mondo. Una prestazione maiuscola contro Novak Djokovic, che ne discutevamo prima fuori onda, era deciso a riportare in Serbia la Coppa, probabilmente per l'ultima volta, tre match ball annullati. Una prestazione maiuscola, io le chiedo innanzitutto come giudica la figura di Yannick in questo momento anche a livello mondiale e poi quale rapporto umano ha stretto con Yannick? Beh, intanto desidero evidenziare che Novak aveva dichiarato al suo popolo che avrebbe vinto la Coppa Davis e che sarebbe stata la sua ultima Coppa Davis, quindi è andato via abbastanza arrabbiato. Su Yannick è un giocatore che sta studiando per diventare numero uno al mondo, infatti il suo tennis non si esprime ancora così come lui desidererebbe. È nato come un giocatore attaccante da fondo campo, dove si basava quasi esclusivamente su winner giocati sui colpi a rimbalzo. Oggi sta sempre più studiando per poter andare a rete e quindi fare il famoso serve and volley, oppure appena possibile conquistare spazio-tempo e cercare di fare le volei vincenti. Quindi sta studiando per diventare un giocatore universale dentro il campo, ma universale anche fuori dal campo, perché questo meraviglioso sport di fatto rispecchia quello che si è nella vita tutti i giorni. E quindi questa sua universalità strategica, tattica e tecnica all'interno del campo lo sta completando anche fuori dal campo. Quindi un ragazzo straordinario di 22 anni, lui è nato nel 2001, beh io ritengo che questo è uno dei primi grandi risultati, anche se già ne ha ottenuti diversi, di Yannick per poi potersi proiettare verso il numero uno del mondo. Allora direttore noi ci fermiamo un attimo, mini spot, guardiamo insieme l'intervista realizzata a Claudio Pistolesi, ex tendista che le conosce benissimo e poi torniamo in studio. Sport Club, il mondo dello sport nel centro di Bari. Avvigliamento a calzature, accessori, running, basket, tennis, paddle, piscina o fitness. Vieni da Sport Club a Bari in corso Cavour 116. A Bari lo sport è Sport Club. Claudio Pistolesi a Bari per presentare C'era una volta il mio tennis, un titolo significativo, proprio per questo ti chiedo, cosa è cambiato dal tuo tennis al tennis del presente? Ha cambiato tantissimo i materiali, anche la scienza, siamo stati un po' guini pig, abbiamo fatto da apripista un po' in tante cose, ma la cosa più importante che è cambiata forse è l'umanità, prima c'era più bisogno di starsi vicino, anche fra rivali ci aiutavamo, non c'erano i team, eravamo da soli, quindi anche saper navigare in acque sconosciute, quindi è cambiato tantissimo. Penso che la cosa principale è cambiata la umanità che ho cercato di riportare nel libro. Ovviamente l'argomento del momento è sicuramente la vittoria del team Italia in Coppa Davis. Tu la Coppa Davis l'hai giocata, l'hai giocata proprio qui a Bari, ti chiedo innanzitutto che emozione ti ha fatto vedere l'insalatiera tra le mani delle azzurri e poi qual è il tuo ricordo che ti lega appunto a questa competizione a squadra? Guarda, la prefazione del libro l'ha fatta Adriano Panatta, quindi non si può non associare la prima Coppa Davis che era diversa come formula, con tantissime cose del 76 e quella di ieri, una coincidenza incredibile. Il mio libro parla di questi 47 anni esattamente fra le due Coppa Davis, adesso possiamo dirlo. Abbiamo deciso la data in tempi non sospetti ma è una cosa fantastica, qualcosa di inaspettato ma la squadra è fortissima e quindi sì, il ricordo di Bari è incredibile perché proprio qui e non solo ho questo ricordo di aver vinto due match contro la Danimarca, che non era scontato, l'Italia non era mai andata in serie B e quindi il mio contributo sulla Coppa Davis l'ho dato proprio qui in questo circolo, il circolo tennis Bari che è veramente nel mio cuore e c'è tanto del tennis Bari, del circolo tennis Bari nel mio libro. Per chiudere, continuiamo a parlare di Bari, tu hai un rapporto speciale con questa città. Oltre alla presenza in Coppa Davis hai vinto il tuo unico titolo in carriera, un titolo che poi è rimasto nella storia. Ti chiedo come ricordi quell'impresa e qual è il filo che ti lega a Bari? Sì, è chiaramente uno dei ricordi più belli della mia vita, una memoria incredibile. Stavo giocando male, fra l'altro persi, spacchiai una racchetta il giorno prima, il giorno dopo giocai con Krikstein che era i primi dieci del mondo, testa di serie, vinsi al terzo, non pensavo mai di vincere il torneo, andai in finale contro Francesco Cancellotti che era un po' il mio esempio, il mio idolo e lo battei in finale. Quindi fu qualcosa di fantastico e fu il record italiano per 34 anni di più giovane giocatore che ha mai vinto un titolo ATP fino a Sinner, quindi Sinner, che ritorna sempre, due anni fa ha battuto questo record di due mesi. Ma lo ringrazio perché condividere un record con Sinner è molto prestigioso adesso, questo ragazzo è fantastico e solo ieri abbiamo visto che cosa è capace di fare e siamo solo all'inizio. E rieccoci insieme, siamo ancora con Michelangelo Dell'Eddora, direttore dell'Istituto di Formazione Lombardia, team manager della Nazionale Italiana. Direttore, lasciamo per un attimo da parte la Coppa Davis, sicuramente questa è una vittoria che è soltanto la punta dell'iceberg di un movimento italiano che continua a crescere, ma è anche esempio per le altre nazioni, abbiamo visto a Bogotà durante la Masterclass dell'ISF, lì c'è proprio la percezione di quanto il nostro tennis, il nostro movimento, si è migliorato col tempo. Il sistema Italia è oramai riconosciuto nel mondo, a tal punto che in questi ultimi 13 anni, mentre ieri emigravano allenatori piuttosto che ragazzi per potersi andare ad allenare in altre nazioni, oggi il processo è esattamente inverso. Siamo stati riconosciuti 10 anni fa dalla Federazione Mondiale come Gold Institute, il che significa tra i primi 10 istituti di formazione al mondo, strategicamente è l'unico istituto di formazione per insegnanti che si occupa anche di settore giovanile, perché siamo convinti che per sviluppare le capacità di allievi talentuosi ci vogliono insegnanti di talento e quindi questo ci ha consentito di decentrare praticamente tutta la nostra attività e per la prima volta, così come dicevi Giuseppe, a Bogotà abbiamo fatto una relazione didattica sulla nuova metodologia di insegnamento che l'Italia propone nelle 2000 scuole tennis italiane. Consentimi anche di evidenziare che questo sistema è nato dalla nostra regione, dalla nostra città, perché nel 1992 è nato il centro tecnico regionale qui a Bari, dove si venivano ad allenare le Flavia Pennetta e le Roberta Vinci e che questo sistema di coinvolgimento delle scuole tennis pugliesi, tra l'altro approfitto per dire che gli insegnanti pugliesi sono tra i migliori d'Italia, questo stesso sistema didattico, studiato da un punto di vista sperimentale, scientifico, quindi non basato sul caso, è stato proiettato a livello nazionale. In questi 13 anni il lavoro svolto su tutto il territorio, da Bari a Milano, da Palermo a Bolzano, praticamente fa parlare nel mondo del sistema Italia. Io colgo il suo assist, ancora una volta parlerei di Puglia perché, l'ho detto lei, ci sono maestri che valgono e che riescono ad esprimersi anche in campo nazionale e internazionale. Le chiedo, qual è lo stato di salute del tennis pugliese? Io penso soltanto a qualche nome, Vittoria Paganetti, Fabio De Michele, Daria Raimondo, sono ragazzi che giocano qui in Puglia ma che riescono ad esprimersi anche in tornei di livello, pensiamo all'Islam Juniors. Bene Giuseppe, tu hai fatto i nomi dei ragazzi, io faccio i nomi dei maestri, perché Raffaele Gorgoglione a Bari, piuttosto che Andrea Trono a Lecce, sono delle eccellenze nell'ambito del nostro percorso didattico come insegnanti. Quindi l'opportunità di poter sviluppare le capacità che diventano abilità di questi allievi talentuosi è dato esattamente da quel termometro che passa tra il campo e fuori dal campo, la famiglia, il maestro. E quindi ritengo che in Puglia ci saranno nuove Flavia Pennetta, nuove Roberta Vinci e non dimentichiamoci di nuovi Gianluca Pozzi, piuttosto che Cristian Brandi, altre eccellenze nel tennis maschile, insomma il tennis pugliese è in grande salute perché abbiamo insegnanti e ragazzini con capacità straordinarie e dirigenti come Dodo Alvisi, vicepresidente della nostra federazione, Donato Calabrese che si occupa del progetto Racchetta in classe, Francesco Mantegazza con tutto il Consiglio regionale, gente che ha competenza e passione verso questa meravigliosa disciplina. Per chiudere direttore io tornerei sulla Davis, questa secondo me è una mia osservazione, potrebbe essere un'arma fondamentale per far avvicinare più ragazzi e ragazze possibili al tennis, la federazione lo fa già benissimo, citava il progetto Racchetta in classe, però se dovesse lanciare un messaggio ai ragazzi che vogliono conoscere meglio il tennis cosa direbbe? Intanto oggi giocare a tennis è molto più semplice rispetto al passato, dove si considerava il nostro sport elitario piuttosto che sport asimmetrico e quindi da un punto di vista ortopedico si diceva non adeguato per la crescita dei bimbi, non è assolutamente così, sono cambiati gli attrezzi ed è molto più facile avvicinarsi ai nostri circoli e giocare a tennis con grande semplicità, corsi gratuiti piuttosto che promozioni ce ne sono tante, ma così come il progetto Racchetta in classe che si svolge in ambito scolastico per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, offrono addirittura borse di studio per bambini che non hanno le opportunità per poter frequentare un circolo, quindi oggi le opportunità per poter giocare a tennis sono veramente tante, sono dietro la porta di casa. E allora io ringrazio il direttore dell'Istituto di Formazione Lombardia e ricordiamolo, team manager della Nazionale Italiana che ha conquistato la Coppa Davis, Michelangelo Dell'Edera, grazie. Grazie Giuseppe e a tutti gli amici di Telebari. E ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.